Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, qui Angel3Dark3, Welcome in the Dark, per un altro video acquisti finale di Monster Hunter World per quanto riguarda il multiplayer. Abbiamo fatto il livello facile, Ganjan Jagras, il divoratore famelico, poi furie nelle guglie e adesso facciamo minacce nella foresta antica, che è la parte difficile. La vediamo, speriamo di riuscirci, accampamento 1 e via, ricerca rapida. Spero che questi videogameplay vi stiano piacendo, io mi sto un pochettino impratichendo con il gameplay, perché è da tantissimo che non giocavo Monster Hunter, intanto mi dà errore. Riproviamo. Purtroppo la connessione a internet non mi sta aiutando. Ok ci siamo Cambiamo pure arma Sono indeciso tra la lama, vediamo, attacco 3 e 30 Purtroppo la lama, che è proprio una mascella con la lama. Ok ragazzi abbiamo trovato un inglese, adesso ne dischiamo messa l'ultima parte. Individuo alle tracce del mostro e affidati agli inserti guida per trovare il... se ti perdi consulta la... d'accordo, cominciamo con quella missione. Si chiama minaccia nella foresta antica. Il bersaglio è un ignoto mostro che ha il vizietto di marcare il territorio... Ehm... cospargendolo di melma. Dobbiamo rintracciarlo e occuparcene prima che scada a terra. Spargendolo di melma. Consiglio di iniziare a cercare. Ok, possiamo partire. Allora, gli altri tre sono... Andiamo andati avanti. Ah, è molto chiusa qua la mappa. Secondo me l'hanno già trovato. Vediamo. Gli vado incontro perché stanno correndo. Questi mi sa che l'hanno trovato. Adesso sto guardando la mappa. Bistecchina tattica. Non so perché stanno correndo così all'impazzata. No, a me si è colpito un mostro. Qui noi proveremo a catturarlo. Ok. Quindi abbiamo anche degli aiuti. Non vorrei che sia questo il mostro che dobbiamo attaccare. Arma a corto raggio con scarsa mobilità, ma dalla notevole potenza ad attacco. Sì, è molto lenta questa come arma, però è molto potente. Fa molto male questa lama. Wow, molto belli gli effetti particellari. Stupendi. Ma dove cavolo è sto mostro? Non lo sto trovando. Stiamo correndo per tutta la mappa. Adesso perché torno indietro? Non mi dire che è quello. Sì, mi sa che è questo. Quello non è il nostro bersaglio. Dobbiamo concentrarci sulle prede che contano veramente. Ok. Andiamo avanti e cerchiamo il nostro bersaglio. E' quello in fronte. Allora, è basta raccogliere. Oh, un piccolo dinosaurino. Oh, un piccolo dinosaurino. Noi stiamo facendo il giro inutilmente. Mi sa che l'abbiamo trovato. Oh, eccolo. Carica. Tu sulla testa di tono. Wow. Cado, cado. Che spiegata. Prendi questo. Viscio. Preparati perché tutto si distrugge. Cazzo, vola pure. Non ve lo dire. Pensavo avesse quelle alette. Devo caricare. Aia. Lo so. Viscio. Cazzo, quant'è la in sassarma. Devo prendere la katana. Ok. Mi sta potenziando quella con le melodie. Deve trovare un punto alto per scalpargli in testa. Wow. Guardate la trasformazione della testa. Che sticata. No, no, no. Pure tu, erbivoro, no. Non rompe le palle. Vieni, vieni, vieni. Ti ammazzo fra di loro? Non mi scappi. Dovrei averlo avvelenato. Aia. Vediamo se riesco a paralizzarlo. Aia. Che testate che mi dai. Cazzo, questo spara il fuoco. Via. Amici, vi do un po' di vita. Un attimo che mi... Temo l'arma. Perfetto. Dai. Vai, rola. Se stisci ripetutamente colpi come questo, lo stordimento ti impedirà di muovere. Il bengala guaritore è un fumageno che, piazzato a terra, ripristina gradualmente la tua salute finché mi stai accanto. Voglio bloccarlo con la rete se riesco. Cazzo quanto salta. Aia. Provo a paralizzarlo. E va in paralizzato. Ci siamo, è paralizzato. Ora, attacchiamo. Carica. Rompiamogli le gambe, così cade a terra. Le gambe dietro. Dai, queste qua, queste qua. Vicio. Perfetto. Adesso sono riuscito a puntare il bersaglio. 10 minuti di tempo. Vieni, 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 vieni. Attaccami. Sono qui, vieni. Dai, che sei nella trappola. Ora. Mamma mia, quanta resistenza che ha. Perfetto. Mamma mia, ma si rialza subito. Non ci vedo una matta. Non ci vedo una matta. Vai, 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 vai. Stiamo finendo, dai. Meno di 10 minuti. Possiamo farcela, possiamo farcela. Attacchiamo tutti insieme. Carica. Non ci vedo una matta. vediamo se torna indietro. Cosa si sta succedendo? Dai, che sei intrappolato. Ora. Carica più forte che puoi. Devo rompere le gambe dietro. Non ho più trappole. Non ho più trappole. Guarda di bombe. Tire suicidio. Via, via. Cura, 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 cura. Come faccio a spegnermi? Non mi ricordo. Così. Uh, si è intrappolato. Ottimo. Ok, ferido. È ferido. Basta, basta, basta stare qua a cazzeggiare. Ah. Mamma mia. Maledizione raffreddora mi sta uccidendo. Ma quanto cacchio è scappato lontano? Mi stiamo alle calcagne. Ok, sta per morire. Ti sta lasciando andare. No. Troppo bello che sto scappando ora. E cadi. E cadi, dai. Su. Cadi. Dai, 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 dai. No, non voglio cadere Anche vuoto Che abbiamo fatta, che abbiamo fatta Ah, sempre interruzioni anche quando registro purtroppo Vabbè raga, abbiamo finito anche questo, meno male Chiudiamoci il bottino Missione completata, ottimo E anche questa missione qua difficile Ce ne siamo portate a casa Vediamo il cecchino addirittura AngelTrader 3 è grande Colpi di fionda messi a segno 19 Perfetto raga, abbiamo finito Congrazioni Minaccio della pressa antica E ottenuto il pacchetto premio beta difficile Ottimo Che si sbloccherà poi sul gioco ufficiale Sulla versione finale Che esce il 26 gennaio 2018 Io ve lo consiglio perché è veramente bello Sto Monster Hunter World PS4 Come sempre vi ricordo Se il video vi è piaciuto lasciate un like Un commentino se volete Un'iscrizione al canale E la campanellina per rimanere aggiornati Su tutti i video che farò Ciao e al prossimo video